Cercasi collaboratori per questo ristorante nel cuore di Roma, ma cercasi affannosamente anche estetiste, segretari, manager per diverse attività in Italia, tutti avviate dallo stesso imprenditore. La difficoltà a reperire i dipendenti, un allarme comune a molti imprenditori che suona grottesco nell'Italia della disoccupazione, dove a suo modo di vedere c'è una pecca formativa oltre che organizzativa nell'incrocio della domanda con l'offerta ed anche di approccio culturale, le famiglie iperprotettive e gli imprenditori vecchio stampo che non sanno motivare. Credo molto nella meritocrazia, credo che lo stipendio della persona debba essere proporzionale al valore che dà al mercato.